Poi quando eravamo mille, decimila, cattomila, è possibile che fuori non c'è più nessuno, è possibile che non si sente più una voce, un rumore, un respiro. Dove siete? Ci sentite? Non vi sento, non sento più nessuno, fuori letta rumore, è possibile che fuori non c'è più un respiro, è possibile che fuori non c'è più nessuno.